La prossima partita di campionato affronteremo in trasferta Scafati, innanzitutto è un campo molto difficile, molto caldo, con dei tifosi molto appassionati, quindi sicuramente l'approccio e l'aspetto mentale, soprattutto all'inizio della partita, sarà determinante. È una squadra che dall'arrivo di Caia ha cambiato unitamente marcia, in campionato risalendo la classifica e giocandosi in posto per le finalità dell'ultima giornata di campionato contro l'Ironi. Dall'arrivo di Caia, soprattutto la squadra a livello difensivo, è una squadra che è diventata molto efficace, risultando una delle migliori squadre a livello difensivo grazie all'aggressività e alle regole che ha portato in squadra Caia. Decisiva sarà sicuramente la lotta a ribalzo, dove loro sono una squadra molto efficace e che porta tanti punti dentro l'area dopo una seconda opportunità, quindi dovremo essere bravi a limitare il loro impeto, soprattutto in area. Per quanto riguarda in attacco, hanno giocatori di grandissima esperienza, che conoscono benissimo al nostro campionato come Logan, Stone e Ingrò, vivono delle loro iniziative e sono molto bravi a eseguire dei giochi molto semplici, ma sono molto bravi a leggere le situazioni e eseguire, per cui dovremo essere molto bravi a stare concentrati per tutti i 24 secondi dell'azione e non farci sorprendere dalle loro forze, che da quando è arrivato Caia sono sono aumentate a dismisura.